A condizioni meteorologiche favorevoli il cronoprogramma ci ha portato a condividere con i tecnici di ANAS, i geologi, tutti coloro che operativamente stanno lavorando la riapertura con del flusso di traffico regolamentato a senso unico alternato a partire da giovedì 6 aprile dalle ore 4 e entro le festività a doppio senso di circolazione. Questo è un impegno che ha preso ANAS che impiegherà circa 8-9 giorni lavorativi a partire da martedì per posare le barriere di sua competenza. Un importo totale di spesa di 210.000 euro, 170.000 che sono giunti dalla regione. Sì, 170.000 della regione e 40.000 del comune in un accordo di programma del quale voglio ringraziare il vicepresidente della regione Aldo Reschigna che si è speso dal primo giorno per cercare di garantire questo cofinanziamento per i lavori di somma urgenza. La sinergia tra le parti sta facendo la differenza in una corsa contro il tempo per arrivare a riaprire totalmente la strada statale 34 prima della Pasqua. La regione ha fatto la sua parte come hanno fatto la loro parte i comuni e come mi auguro che questo lavoro possa portare a un risultato importante. Adesso abbiamo di fronte a noi un appuntamento, un percorso altrettanto importante a partire dall'incontro lunedì col Ministro. Non aspettiamoci risultati miracolistici lunedì. Quello che però è importante dell'incontro lunedì è incominciare un lavoro e un pressi molto forte nei confronti del Ministero dell'Infrastruttura dell'ANAS. L'azienda che è la SISCOM di Arona ha mantenuto gli impegni, ha fatto un lavoro molto molto preciso sul terreno impegnando più squadre di rocciatori molto bravi che hanno lavorato anche in condizioni meteorologiche difficili perché hanno lavorato sempre anche con la pioggia e vi assicuro che lavorare in certe condizioni appesi alla parete quando piove non è certo una cosa facile. Quindi bisogna fare i complimenti all'impresa. È stata imbrigliata tutta la parte superiore ad oggi, manca soltanto la barriera Paramassi che verrà montata nelle ultime ore. Stanno ancora tesando le catene perché i lavori per quanto concerne la SISCOM sono fatti da due aspetti. La sistemazione della parete da cui è sceso la maggior parte dei massi che vengono quindi pannellate, vengono posate su questa parete dei pannelli ad altissima resistenza e legate con catene pure ad altissima resistenza. Quindi la tesatura è ancora in corso. Poi invece, e questa la chiamiamo difesa attiva perché è qualcosa che è attivo sul versante. Poi c'è una seconda parte che è fatta di difesa passiva che è quella che deve intercettare eventuali volumi che dovessero ancora cadere. Non certo adesso, ma in prospettiva perché non si può sempre considerare definitivi queste operazioni.